Ciao ragazzi, questa sera voglio proporvi un gioco tratto dal libro Self-Working Close-Up Card Magic di Carl Fulbs. È un gioco molto semplice ma che trovo di grande impatto per il pubblico. Bene, cominceremo con il mescolare il mazzo in questo modo. Ok, andremo anche a tagliare. E dopodiché consegneremo il mazzo al nostro spettatore lo inviteremo a sollevare una porzione di mazzo e ribaltarla a faccia in alto. Da questa porzione che si trova a faccia in alto lo inviteremo a sollevare nuovamente e a ribaltare il mazzetto sollevato. Poi andremo a ricomporre il mazzo in questo ordine, ribalteremo il tutto e rimuoveremo tutte le carte che si trovano a faccia in alto dal mazzo e manterremo soltanto le carte che si trovano a faccia in basso. Tutte le carte a faccia in alto verranno scartate. Ora, quelle carte rimaste a faccia in basso le faremo distribuire in quattro pile in questo modo e inviteremo poi lo spettatore a vedere quali carte si è servito e con grande stupore potrà constatare che si è servito i quattro re. Ma nonostante questo, il mago sarà comunque riuscito a farsi servire i quattro assi. Bene ragazzi, spero che l'effetto sia piaciuto anche a voi e se così fosse vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!